Qual è la situazione oggi, 2 novembre, di Favriano? Attualmente abbiamo 142 famiglie fuori casa per casa inagibile, quindi appartamenti inagibili, per un totale di 42 ordinanze alle 19 di ieri. Oggi sono cresciute le ordinanze, sono in tutto 387 per i residenti fuori casa. Stiamo provvedendo a trovare una sistemazione per ognuno di loro. Per adesso l'albergo o una sistemazione provvisoria e poi l'autonoma sistemazione o anche in parallelo l'autonoma sistemazione per chi potrà usufruire. L'autonoma sistemazione significa che uno si trova in un appartamentino e il governo gli paga delle provvidenze. Questo è il quadro attualmente della situazione. In più abbiamo tanta gente fuori, circa 600 persone per la paura, per le quali rimane a disposizione il treno. Ci sono i due palazzetti dello sport che sono attrezzati con i letti e ce n'è uno aperto senza letti aperto solo per tutti coloro che vogliono stare un attimo al caldo. Invece abbiamo un'area di una palestra piccola, è stata dedicata a coloro che sono in carrozzina, che hanno problemi di diambulazione, che pur non avendo la casa inagibile non si sentono sicuri di poter abbandonare la loro abitazione in caso di una... Allora, adesso noi ripartiamo anche in una vita normale. Quando riaprono le scuole? Intanto ho deciso di farle ricontrollare tutte dopo la scossa dell'altro giorno, dell'altra mattina, perché ritengo che sia giusto ricontrollarle se le scosse sono piuttosto forti. Non abbiamo riscontrato problemi significativi, quindi né gravi, però vorrei essere sicuro sempre di ricontrollarla quando il sisma supera un certo limite per avere la certezza sempre dell'agibilità di tutte come ce l'ho avuta fino ad oggi. Fino ad oggi abbiamo fatto già due controlli, però adesso questa scossa mi ha rimesso un po' in agitazione, come ha rimesso in agitazione i genitori e tutte le persone che vivono in città. Devo dire che abbiamo dei grossi problemi a Palazzo Chiavelli e al teatro in tutto quel blocco lì, che dobbiamo approfondire. Abbiamo in agibile la parte vecchia dell'immobile e dell'ospedale e abbiamo in agibili alcuni edifici in zone periferiche. Sull'ospedale possiamo entrare un po' più sullo specifico? Intanto è importante sapere che tutte le degenze e le sale operatorie sono tutte funzionanti. C'è stato un problema su alcuni ambulatori che erano esposti nella parte vecchia, stiamo riorganizzandoli in alcuni passaggi. Entro venerdì avremo sistemato l'ipotesi di lavoro insieme al dottor Bevilacqua e alla dottoressa Mancinelli. Poi stiamo cercando anche di mettere a disposizione loro degli uffici di proprietà comunale per poterli ospitare. Sulle residenze socioassistenziali, sui casi di riposo? Dalle verifiche che abbiamo fatto non risulta niente. Le due case di riposo sono a posto, abbiamo anche la Buona Novella, la comunità del Cirolacca che sta a pian terreno, peraltro abbiamo fatto le verifiche, le ripetiamo ogni volta che c'è una scossa significativa, teniamo sotto controllo la situazione. Credo che passino ora da un'idea di cratere, che era quella prima che verrà approvata sicuramente, a spero, io auspico, ho chiesto che venga estesa l'area, ma non tanto del cratere, quanto dei danni, cioè che venga riconosciuto dove ci sono i danni causati dal sisma, questi vengano ristorati, perché questo è l'equilibrio che dobbiamo dare. Poi tutte le altre provvidenze possono essere anche date ai comuni più ristretti o a chi sarà. Noi dobbiamo cercare però intanto che tutti i danni pubblici e privati al patrimonio vengano ripagati o perlomeno messi in condizioni di poter essere pagati, perché la ricostruzione va fatta, non possiamo lasciare pezzi di città vuoti. Noi abbiamo un quartiere, la Spina Serraloggia, che al centro è colpito fortissimamente. È vero che fuori magari si avverte poco, ma lì abbiamo sulla via, le due vie, via Petruio, via Lo Sturzo, Fratelli Latini e Serraloggia, abbiamo un indice di danneggiamento che supererà il 70%. Quindi questo è un punto critico che secondo noi va riconosciuto. Poi abbiamo la zona rossa di Albacina, abbiamo dovuto sacrificare tutto il castello di Albacina e interdirlo all'accesso al pubblico. Un'ultima domanda sulle attività lavorative, sulle aziende, le industrie. Ci sono delle problematiche, ci sono delle chiusure? Il 31, per adesso non abbiamo chiusure di imprese fortunatamente. Il 31 però c'è stato il rientro al lavoro e quindi si sono avvertite alcune crepe, segnalazioni. Stiamo facendo le segnalazioni che ci hanno chiesto anche sugli edifici delle imprese perché se ci sono problemi intanto vengono dichiarati inagibilità. Se non ci sono problemi possono continuare con tranquillità a lavorare perché il lavoro rimane comunque l'elemento centrale anche per una ripresa. Anche per la normalità. Assolutamente. 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 Grazie a tutti.